Sono appena usciti attraverso il valico di Rafa, sette cittadini italiani anche con passaporto palestinesi, con i loro familiari in tutto sono dieci persone. Tra questo gruppo ci sono anche due donne incinte, una al nono mese, che verrà accompagnata in ambulanza della mezzaluna rossa al Cairo. Sono tutti in viaggio verso il Cairo, sono tutti in buona salute, quindi è una buona notizia per quanto riguarda la più difficile situazione nella striscia di cazzo. Grazie Antonio, siamo molto molto contenti di questa notizia. La parola al Ministro Casellati. Grazie. Allora, il disegno di legge costituzionale che oggi andiamo a presentare è ispirato a un criterio minimale di modifica della Costituzione vigente nella convinzione che si debba operare per quanto possibile in continuità con la nostra tradizione costituzionale, con la nostra tradizione parlamentare e che pertanto gli interventi di revisione che andiamo a fare debbono limitarsi a quelli strettamente necessari per gli obiettivi che noi vogliamo cogliere. Questo consente da un lato di ridurre anche le difficoltà applicative e i dubbi interpretativi, ma dall'altro anche di preservare le prerogative del Presidente della Repubblica che l'esperienza repubblicana ha confermato quale figura chiave della forma di governo italiana e dell'unità nazionale. Per quello che riguarda la proposta, come ha già detto il Premier Meloni, poggia su due capisaldi. Uno è dare stabilità e durata ai governi che sono stati 68 in 75 anni di storia repubblicana con una durata media di 14 mesi. E l'altro è quello di restituire voce ai cittadini che per troppo tempo hanno riscontrato l'irrilevanza del loro voto. Perché nel disallineamento che c'è stato fra il loro voto e la forma di governo, il che ha provocato una sfiducia nella politica, una disaffezione e quindi un allontanamento, un astensionismo galoppante nelle ultime tornate elettorali. La proposta che io considero la riforma delle riforme e ha ragione, ha detto il Presidente Meloni, che noi entreremo con questa revisione nella Terza Repubblica. Perché spesso appunto si sente dire ma le priorità sono altre, fisco, pensioni, infrastrutture, lavoro e così via, certamente sì, è vero. E' come se quando noi parliamo di riforme costituzionali e si trattasse quasi di una esercitazione dialettica, astratta. Non è così. Perché non si può fare nessuna delle riforme che ho citato, fisco, pensioni, infrastruttura, eccetera e così via, se c'è un governo debole, precario, perché non raggiungono i loro obiettivi, non ce la fanno in una successione continua di governi dove si cambiano continuamente le regole del gioco. Ed allora la proposta opera su cinque versanti che sono tutti riconducibili nella loro essenza al criterio della decisività e al rispetto del voto popolare. Per cui per primo si introduce il meccanismo di legittimazione democratica, sono cinque i versanti, cinque gli articoli che vengono toccati con quindi questo meccanismo di legittimazione democratica diretta del Presidente del Consiglio che viene eletto a suffragio universale e diretto con una votazione popolare che si svolge contestualmente alle elezioni per le Camere. Perché è importante questa contestualità? Perché spesso si è detto che vi siete inventati, almeno così ho letto, un premierato che è stato un fallimento perché l'unica forma di premierato esistente nel mondo è quella israeliana e che ha fallito perché ha avuto tre elezioni, 1996-99-2001, dopodiché l'hanno abrogata. Ma fallito perché? Perché a differenza nostra non ha posto un collegamento tra l'elezione del Presidente e contemporaneamente della lista legata al Presidente, il che ha comportato una frammentarietà dei partiti e il fatto che il premier fosse il ostaggio, per così dire, dei vari partiti. Quindi anche questo mi è sembrato una cosa un po' singolare. Il secondo punto è che si assicura la stabilità nel tempo dell'incarico del Presidente del Consiglio sancendo una durata quinquennale. Si garantisce il rispetto del voto popolare, della volontà, finalmente, e della volontà dei cittadini. Una continuità di questo mandato elettorale che viene conferito dagli elettori prevedendo però una clausola antiribaltone che il Presidente del Consiglio in carica che prevede che il Presidente del Consiglio in carica possa essere sostituito solo da un parlamentare della maggioranza e solo al fine di proseguire nell'attuazione del medesimo programma di governo. Quindi no a governi tecnici. Si fa carico poi della questione della governabilità perché salvaguardando al contempo quello della rappresentatività che sono i due elementi tipici di ogni anche legge elettorale affidando alla legge elettorale la determinazione di un sistema elettorale delle Camere attraverso un premio assegnato su base nazionale che assicuri al partito o alla coalizione di partiti collegati al Presidente del Consiglio la maggioranza dei seggi parlamentari. Infine il quinto punto e si supera la categoria dei senatori a vita. Vedete noi in questa prospettazione abbiamo cercato di portare la legittimazione democratica al più ampio numero possibile di istituti di forma di governo e quindi anche per quello che riguarda i senatori a vita l'eccezione della norma transitoria che prevede che certamente quelli che ci sono permangano. E questo intervento poi si rende anche inevitabile perché con la riduzione del numero dei parlamentari si è ridotto anche il margine delle maggioranze in questo ramo del Parlamento e quindi questo fa da ponte con la prospettiva di stabilità che noi vogliamo dare alle maggioranze. Quindi è una riforma come dicevo minimale ma di grande portata perché permetterà davvero non soltanto di avere una credibilità a livello internazionale attraverso la stabilità perché l'Italia sarà più credibile più competitiva nell'economia mondiale dalla stabilità dipendono sempre la possibilità di impresa la crescita economica la fiducia dei mercati la pianificazione della vita delle persone e delle famiglie il rapporto virtuoso con tutte le istituzioni dalle università alle regioni e quindi non si può programmare come dicevo prima il futuro se cambiano nella successione rapida come è stata di governi continuamente le regole del gioco. Quindi io mi auguro che siccome noi ci siamo presentati al confronto ad un lungo confronto con tutti con le opposizioni con le associazioni economiche di categoria con i sindacati per un lungo confronto senza ricette precostituite e quindi mi auguro che proprio per questo avendo messo a terra tutte quelle che sono state le obiezioni che sono arrivate da varie parti abbiamo cercato di costruire un modello che potesse soddisfare le esigenze di tutti anche delle opposizioni quindi mi auguro che con questo nel dibattito e nel confronto parlamentare che ci sarà che questo punto di caduta ci sia perché il nostro sforzo è stato massimo abbiamo iniziato con un programma che prevedeva l'elezione del Presidente della Repubblica di fronte a varie obiezioni abbiamo abbassato questa bandierina per venire incontro abbiamo ascoltato anche altre criticità e le abbiamo messe a terra mi auguro quindi che in questo provvedimento possa trovare un ampio consenso nel dibattito parlamentare grazie a tutti